Emanuele Oiolli, 16 anni, piemontese della provincia di Novara, studente al liceo linguistico di Gozzano, stella della società bustese Olonia, il vincitore del secondo trofeo Ubaldo Longhin, categoria allievi, tornato in scena a Cavaria il 25 aprile. Manuel si è distinto al termine di una corsa lunga 56 km, percorsa in 1 ora e 28 minuti con una media di oltre 38 km l'ora. 132 ciclisti iscritti, 122 in partenza, 33 giunti al traguardo. La gara, intitolata al compianto imprenditore dai suoi familiari, in particolare dalla moglie Grazia e dai figli Giuseppe e Marco, ha visto una nutrita partecipazione di pubblico alla cerimonia di premiazione all'ingresso del municipio di Cavaria. Sul podio, con Manuel, anche il secondo classificato, Dario Igor Belletta di Busto Garolfo, e sul terzo gardino del podio, Alessandro Ceci dell'Unione Ciclistica Figinese. Rete 55 ringrazia Orlando Borini di Pianeta Sport, autore di queste immagini. Grazie. 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 Grazie.